Ho approfittato perché c'è tanti ospiti internazionali che conoscono la natura, quindi posso rivolgermi a loro con più facilità di mangiare. Sono ospiti qui tranquillamente i nostri prodotti perché sono sanissimi, sanissimi perché sono super controllati, sono i prodotti più controllati in Italia, quindi non dobbiamo avere timore e ho aggiunto perché sono anche i più buoni. Quindi questo non guasta in una scelta, però il tema vero nostro è una grande regione che ha una natura straordinaria, ha la più grande aria a parco, ha oggi l'avanzata pianificazione, la regione ha una legge sui rifiuti, il piano dei rifiuti urbiani per i rifiuti speciali, il piano della riduzione dei rifiuti, il piano bonifica, quindi abbiamo la legislazione più avanzata e la pianificazione più avanzata. Siamo una regione verde, vuole essere una regione verde, la nostra grande opzione è il verde, la tutela della natura perché è una straordinaria potenzialità. Quindi questa è la nostra aspirazione avendo le potenzialità migliori, quindi questa è la nostra grande scelta strategica, la regione verde. Non bisogna avere paura delle tecnologie, non bisogna avere paura di come si deve aiutare la natura ad essere non aggredita. Ho fatto un accenno, io sono per la mobilitazione, ci vuole una mobilitazione di cittadini ed è giusto che ci sia, sarebbe strano che non ci fosse. Una mobilitazione di cittadini, di giovani, della chiesa, di tutti noi, anche delle istituzioni compatte per risolvere i problemi. Bisogna costruire in positivo, eliminando tutto ciò che c'è da eliminare perché è guai se non lo facessimo, ma nello stesso tempo dire che è tempo ormai che tutti, istituzioni, chiesa, scuola, famiglia, ci si mette insieme per liberare le nostre terre.